E' il Dipartimento delle Politiche Sociali a stanziare più di 234.000 euro fino a esaurimento dei fondi per finanziare il reddito di libertà. Obiettivo, sottolineato dall'assessore regionale Antonio Scavone, è quello di sostenere le donne vittime di violenza in un percorso di indipendenza economica per uscire dal bisogno e dal degrado. La misura pubblicata dal Dipartimento regionale della Famiglia delle Politiche Sociali è diretta ai comuni e ai centri antiviolenza con le strutture di accoglienza iscritte all'albo regionale. L'obiettivo è appunto quello di avviare un progetto in favore delle donne vittime di abusi e maltrattamenti guardando all'occupabilità e alla potenziale creazione di attività d'impresa. Così dal cadone d'affitto dell'abitazione o della propria attività lavorativa, all'acquisto di attrezzature, redi, materie prime, fino alle spese di allaccio per le utenze e le polide assicurative come per le licenze e permessi, le autorizzazioni, il reddito di libertà potrà essere impiegato per tutto questo. La richiesta della sua manua non dovrà superare i 10.000 euro per ciascuna donna. Ogni comune potrà presentare un numero di domande definito nell'avviso. I comuni, capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti potranno presentare fino a 5 progetti personalizzati. L'istanza di contributo dovrà rispettare il contenuto delineato e dovrà essere presentata dal 10 ottobre fino al 31 ottobre 2022. Le richieste potranno essere presentate via posta elettronica certificata all'indirizzo dipartimento famiglia chiocciolacertmail.regione.sicilia.it